ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata a voi che state guardando ai cosiddetti amici del canale alle loro collezioni voi mandate i video poi li metto qua dentro il mio dispositivo elettronico digitale riguardiamo tutti assieme dispositivo elettronico digitale che è collegato alla rete perché perché la batteria è in fin garda potrebbe lasciarci a piedi da un momento all'altro quindi ha bisogno di un cavo che va alla rete elettrica batteria è sempre così è sempre un problemino e batterie lo sappiamo che non sono tanto amiche dell'essere umano ora come partecipare lo sapete no guardate quale istruzione in sovraimpressione e seguitele poi mi raccomando video orizzontale e contenuto spigliato sette minuti otto ho ricevuto prima di mettere i video dentro il mio dispositivo digitale un video che subito l'ho visto così era in orizzontale cioè in verticale ci ho passato il mouse sopra 20 minuti ho fatto tasto destro del mouse cestino e via 20 minuti verticale e non si può cosa parlo a fare io cioè per niente va bene detto questo vi mostro il mio orologio del giorno che è questo simpaticissimo villervetta dyna wind 39 mm di diametro cassa orologio in stile militare che si addice ad essere un everyday watch quell'orologio che si può indossare tutti i giorni al quale io ho montato un cinturino nato in pelle realizzato dall'artigiano john kustraps che è parte l'ufficiale del canale quindi gli facciamo la pubblicità me lo sono fatto fare da 20 nonostante l'ansia sia da 22 per sfinarlo un poco alla james bond come faceva no sean connery nel film con il submariner che aveva il nato più piccolo delle ansia infatti anch'io l'ho copiato adesso a proposito di copiare copiamo quello che ci dite voi quello che ci raccontate vai primo videino è ciao davide sono diego dalla provincia di milano diego è l'aggiornamento della mia collezione dopo il video che ti mandai circa un anno fa io sono quello che essenzialmente collezionava solo casio il mio primo orologio automatico fu quel seico cronografo quello il mio punto di partenza e la mia passione per i quarzi non è mai morta infatti subito dopo ho acquistato un altro casio viva il quarzo di questo mi piaceva molto la forma con la lunetta ottagonale scala tachimetrica e il fatto che avesse quattro sottoquadranti ovviamente a ricarica solare è molto sottile mi è piaciuto molto bravo bell'orologio a seguire ho preso un altro gonfia questo orologio lo cercavo da tantissimo tempo infatti era introvabile l'ultimo anno di produzione è stato il 2013 peccato e questo è l'unico orologio che ho comprato usato in condizioni buone ma uno dei difetti che mi dà più fastidio è il fatto che la lancetta dei secondi non corrisponde esattamente agli indici del quadrato ritorniamo con gli automatici 65 sports configurazione pepsi quadrante blu bravo chi di noi non ha un seco 5 in collezione nessuno un orologio qualità prezzo imbattibile robusto affidabile penso che con un orologio del genere puoi farci di tutto senza avere timori di rovinarlo è perché costa poco più che altro prossimo orologio primo mio svizzero toccolo golden horse 1957 quadrante verde che dire nulla perché è un orologio meraviglioso se proprio vogliamo trovargli un difetto è dato che non ha la regolazione fine sul bracciale estate d'inverno sono costretto a togliere una maglia e il bracciale chicchio di riso e siamo tutti sulla stessa barca e quando c'è un orologio con la chiusura farfalla il problema è quello lì anche a volte addirittura evito evito di indossarli se sono troppo larghi piuttosto che mettermi a togliere una maglia e rimetterla dico lascio lì è per quello che servono 30 orologi no perché non hai voglia di cambiare di sostituire di togliere o mettere una maglia e ti metti anzi un altro orologio è per questo vedi dove torna torna comodo sì però il problema delle chiusure farfalla è quello lì sono belle a vedersi chiudono tutto il polso al di sotto lisce no non c'è nessuna scatoletta però c'è un problema a volte quando vedo gli orologi quelli con la bella scatoletta con tanti forellini che magari uno li piglia anche in giro e dice ma guarda lì che vecchio stile no e ma con quello spernatore fai un attimo splink splink anche con uno stuzzicadenti se sei in giro stuzzicadenti plan plan metti dentro e via che bello è abbastanza complesso fare questa operazione dato che non avevo ancora un citizen meno male ho optato per un quarzone imbroglione come lo chiami tu eco drive con indicatore dallo stato di carica nel sottoquadrante a ore 2 questo orologio mi è piaciuto molto non solo il quadrante non troppo affollato ma anche il bracciale con questo colore grigio nero antracite parecchio interessante non troppo affollato e andiamo avanti con un altro automatico video bello questo ho avuto l'occasione di fartelo vedere dal vivo durante il quarto watch meeting di quest'anno ho scelto questa configurazione con quadrante grigio e accenti arancioni questo orologio lo sfrutto davvero tanto lo indosso parecchio perché a quel qualcosa che non me lo fa stancare mai potevo tornare a mani vuote dal buon Giacomo assolutamente no Longin Spirit Zulu Time la punta di diamante della mia collezione un orologio che non necessita di presentazioni questa è la versione da 42 mm la versione da 39 sarebbe uscita da lì a poco ma siccome a me piacciono gli orologi abbastanza presenti sul polso non ho avuto minima esitazione e ti fa piacere sapere che ci sono persone che vanno per la propria strada no gli piacciono gli orologi presenti al polso quindi il 42 no uno pensa il 39 ora esce il 39 e il 42 lo metto da parte no ci sono persone che apprezzano gli orologi un pochino più presenti al polso fa piacere perché sennò ognuno ognuno di noi tende egoisticamente a ragionare secondo la propria filosofia no come posso fare io quello quello è brutto quello è bello quello è brutto quello è bello ma è interessante che ci sono altre persone che hanno gusti completamente differenti contrari al mio o quello di un'altra persona è bello è questo regalo del quarantesimo fatto dalla mia compagna secco cocktail presage bello ho scelto questo quadrante blu un simpatico bracciale simpatico altissimo rapporto qualità prezzo questo orologio per il prezzo che ha ha delle finiture davvero di livello e alla luce del sole il quadrante offre dei riflessi davvero meravigliosi senza colmo acchiappo cercavo da tempo un orologio con fasi lunare dopo una ricerca lunghissima e accurata ho scelto il marchio orient star sul canale credo di non averlo mai visto le sei abbiamo le fasi luna e il giorno del mese e a ore 12 la riserva di carica una complicazione che io adoro un'altra cosa che mi piace di questo orologio è il bracciale che ha la regolazione fine pesa metro cassa 41 millimetri quadrante madre perla e indici blu luminescenti ora ponzi ponzi punti concludo il video con un piccolo extra spero di non andare fuori tema questo è un orologio che ho progettato io con il famoso mattoncino di galileo galilei del 1637 e questo è il primo scappamento libero ad ancora della storia possiamo tranquillamente dire che parte tutto da qui l'orologio perde circa 35 secondi al giorno ma intenzione di migliorare questo valore come fai questo è il peso d'acciaio che dà l'energia alla ruota di scappamento oltre a indicare ore e minuti ho inserito nel sottoquadrante ore 6 i piccoli secondi con questa forma esagonale ad ore 3 ho inserito il sottoquadrante delle 24 ore mentre ad ore 9 ho inserito il sottoquadrante dell'indicatore della riserva di carica una carica che dura circa 13 minuti ho integrato questo sistema di auto ricarica perché mi viene comodo durante gli eventi fieristici e non devo stare necessariamente lì ogni quarto d'ora a ricaricare il peso a mano qui ovviamente ho velocizzato il video per non dilungarmi troppo questo invece è l'analogo dell'estrazione della corona mentre questa è la corona che permette la rimessa rapida dell'orario bene davide la termino qui volevo ringraziarti ancora una volta per tutto quello che stai facendo per la community e per i bei momenti che ci regali un carissimo saluto a te all'amico piero al buon giacomo ea tutti gli amici e amiche del canale love love sono rimasto basito da questo ora non ho capito io no se è un kit che vende la lego credo cioè o chi ma toncini ha detto chi chi un kit a costruire oppure se te lo sei ingegnato da solo utilizzando i pezzi presi qua e là perché dietro inserito questo inserito questo ho fatto ai piccoli secondi sembra quasi che l'hai fatto da solo se l'hai fatto da solo tanto di cappello e sono veramente estasiato anti ammiro ti ammiro veramente se invece un kit ti ammiro uguale ma un po meno ok comunque cavoli e ganzo anche soprattutto per far capire alle persone come funziona il meccanismo base di un orologio poi 35 secondi al giorno dici che cerchi di migliorare come fai a migliorarlo sarei curioso di sapere cosa qual è il problema c'è la regolazione per migliorare 35 secondi comunque a parte gli orologi che tutti belli ti sei beccato anche qualche toppino te lo sei preso questa cosa qua mica e ganza bravo 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 spero che piaccia anche gli amici del canale perché è una cosa nuova fa vedere un po come funziona bravo prossimo video un saluto a te davide a tutti i partecipanti al tuo canale e dove siamo in chiesa dove la tua schiettezza verrà stimolato al massimo visto che parleremo di quella parte della mia collezione che comprende vintage a batteria a batteria iniziamo con questo è un autoski della fine degli anni sessanta prodotto dalla storica maison lip è un orologio in cassa epsa super compresso certificato 200 metri 36 mm di diametro per 14 spessore piccolo per i canoni attuali sfere triziate con secondina lollipop in cassa il successore del secondo calibro elettronico al mondo l'r 184 18 mila alternanze ora un fermo macchina in questi tipi di movimento nonostante sia sempre presente un bilacere collegato a una spirale quindi meccanico la forza che ne provoca le alternanze non è una molla ma un elettromagnete ah sì ce l'ho ce l'ho anch'io il logine con questo carico con un calibro di cui di questo tipo qua elettrico elettronico cioè c'è il bilanciere poi c'è tutta la parte elettrica elettronica con il transistor e con la batteria l'ho preso apposta per quello per avere un logine con un calibro fuori dal normale ora qua ti dici che hai tutta la collezione di orologi a batteria però c'è batteria e batteria c'è la batteria che manda avanti un quarzo e c'è la batteria che manda avanti un bilanciere è un po diverso ha il suo perché quindi questo qua sarà dagli anni 70 o fine anni 60 fine anni 60 anni 70 hanno provato a fare questi calibri elettronici elettrici poi dopo è arrivato il quarzo detto col quarzo buttiamo tutto via che è perfetto quello nel senso no il bilanciere sia regolatore che il motore andiamo avanti e passiamo al blova blova accotron space view in questo caso calibro 214 primo vero elettronico propriamente dei topino scompaiono sia spirale e bilanciere sono sostituiti da un diapason a cui tramite due bobine viene applicato un campo elettromagnetico che le fa vibrare la ruota indice trasmette il moto da diapason ai ruotismi è la ruota più complessa mai inserita nell'orologio misura 2,4 mm diametro e ha 320 denti profondi 10 micron uno dall'altro sono separati soltanto da un centesimo di millimetro il diapason ha una vibrazione a 360 hertz che vuol dire che un secondo è diviso in 360 parti il primo era la 36.000 alternanza ora si limitava per così dire a dividerlo in 10 tutto questo avveniva nel 1160 e ditemi voi quindi se non è un orologio a batteria entusiasmante un altro ne ho due di space view diversi uno braccialato un bracciale integrato e uno cinturino in pelle non so se sia leggendo o meno ma ricordo aver letto da qualche parte che la versione scletrata fosse solo una versione della vetrina dimostrativa ma che il successo fu tale che poi Bulova fu spinta a metterlo in produzione quasi a rimarcare l'estrema precisione di Bulova caratteristicamente spostava la corona sul retro dell'orologio quasi come a dire non c'è mai bisogno di regolare. Interessante. Arriviamo al 1970 Hamilton presenta Pulsar, orologio che stavolta si ha al quarzo e a led rossi per vedere l'ora dovevamo premere un pulsante perché altrimenti l'accensione del display avrebbe fatto non so mai troppa batteria. Io per ora in attesa di trovare un orologio d'epoca ben messo mi sono dovuto accontentare la reddizione PSR di Hamilton è sparito il logo Pulsar che Hamilton non possiede più e i led rossi hanno fatto spazio a un doppio sistema OLED LCD che ha il vantaggio di aumentare notevolmente la batteria e poter permettere una visualizzazione in continuo dell'ora un Pulsar prima serie P1 costava all'epoca della sua produzione quanto un'auto familiare e poi dopo questo andiamo poco più avanti, nel 1976 Bulova, sempre Bulova, tira fuori il computron anch'esso a led rossi con un design particolarissimo, anche qui la visualizzazione dell'ora era altramente pulsante, ma la cassa appunto a veneristica, ispirata ai cosiddetti driving watch ma con qualcosa di fantascientifico in pieno stile anni 70, è oggetto oggi in una reddizione che secondo me ha tutt'altro spessore e all'epoca fu declinato in diverse varianti di oro, argento, misto oro, misto argento, con movimenti sempre più complessi che via via hanno acquisito anche la possibilità di mostrare data a secondi in aggiunta a quella dell'ora. Rimaniamo nello stesso anno, 1976, ormai la bomba del quarzo è scoppiata, anche i meson storiche sono costretti a buttarsi su questa nuova tecnologia ed ecco che arriva Omega che sponsorizza le Olimpiadi di Montreal e fa uscire in concomitanza con esse il calibro 1611 con un orologio possente e particolare, primo Anadigi progettato e secondo prodotto dato che Omega si fece soffiare il record Zenith e con il suo Zenith Future uscì soltanto poi mesi prima, cassa enorme in acciaio da 47 mm di larghezza e un bracciale che aveva una speciale scatoletta che poteva accomodare i polsi fino al 22, enorme anche bello, pesava 152 grammi, o meglio pesa 152 grammi, due batte IE, una per ogni circuito, circuito analogico e digitale, il fermaglio è caratteristica, una forma particolare a qualcuno ha ricordato le ali di un Albatross e per questo questo orologio viene nominato, soprannominato Omega Albatross, è stato cronografo ufficiale, certificato olimpico, capace di registrare il centesimo di secondo prodotto in 15.000 esemplari fino al 1976, il suo costo era circa 2-3 volte quello di acquisto di un Omega Speedmaster, infine termino con un orologio di tutt'altro spessore, ma chiamo comunque indossare e mostrarvi, è sempre un Anadigi prodotto da Pulsar che al tempo in cui Pulsar incorporava appunto Hamilton e Electrodata, l'ho comprato online a pochi euro completamente graffiato, distrutto, danneggiato, cioè aveva il bracciale completamente graffiato, però mi sono divertito un sacco a risistemarlo, a lucidare il vetro ed è il primo orologio che ho rimesso un po' da solo e che appunto mi ha permesso ad adargare la mia passione da puro fruttore di origeria, di indossarli, di acquistarli fino a iniziare a metterci un le mani sopra e iniziare a fare piccole revisioni, spero che questo video non vi abbia annoiato, ringrazio Davide per i contenuti sempre interessanti che propone e vi auguro a tutti una buona vita. Buona vita a te, dunque mi hai lasciato senza parole, come avete visto sono rimasto senza parole, non sapevo cosa commentare di fronte ad una collezione che rappresenta la perfezione, la perfezione nel senso di la collezione di orologi a batteria, a batteria che però ha un grande senso di esista, cioè questo è un bel modo di collezionare orologi, seguire un filone e prendere tutti quegli orologi che hanno rappresentato qualcosa nei decenni, ora come io faccio con i Longines meccanici qua, con gli orologi a batteria di diversi marchi si può fare, ci vuole anche dell'impegno e della passione, ci vuole la passione per studiare, per sapere, per brigare, cioè tre quarti delle cose che hai detto, delle nozioni che hai detto io non le so, non le conosco, le apprendo, le apprendo qua, oppure le so ma magari me ne sono anche dimenticate, però si vede che c'è passione dietro questa ricerca, no? E fa piacere, belli orologi, belli veramente orologi, complimenti, complimenti brevissimi, prossimo video. Ciao Roberto, sono Teodoro da Milano. Roberto un par di pale, come ciao Roberto? Ma hai sbagliato il canale? Cioè, ora io faccio finta di niente, andiamo avanti, ma Roberto qua non ce n'è, eh? No, ti seguo da circa un anno e mezzo, devo dire che apprezzo dei tuoi video sicuramente quel mix di competenza e inrivenenza. Sei sicuro? Ho fatto anche la rima, che è giusto a volte dire quello che c'è da dire, senza essere troppo diplomatici e politicamente sempre corretti. Allora, ti faccio una carrellata veloce dei miei orologi, partiamo da quelli un po' più economici. Vostok, Amphibian, orologio da 39-40 mm. Mi è piaciuto questo, diciamo, abbinamento tra la ghiera cromata lucida e il dial colore argente, con la sfera di secondi azzurra, molto carina. Infatti ci ho montato questo cinturino, abbastanza improbabile, che riprende un po' il colore della sfera. Lo metto poco, però mi piace, è abbastanza carino, è un po' il giocattolino. Ma va bene, dai. Procediamo con questo Orient Mako, orologio che ho acquistato a luglio. Ah, è nuovo, bello, bello. Adesso oggi non c'è una luce molto favorevole, però ti assicuro che non è male. C'ha l'indice sbagliato. Il quadrante blu, con la sfera di secondi gialla, è un bello orologino, con un buon rapporto qualità-prezzo. Questi orologi qua li hanno ritirati dal mercato perché hanno l'indice da 26 che è sbagliato, è fuori posto, è troppo vicino al 25, è troppo distante dal 27. Quindi li hanno ritirati in attesa di rifare i quadranti a modino. Quindi voi che avete queste prime serie, avete il quadrante sminchiato, sminchiato, che però può anche diventare un motivo di interesse nel futuro, oppure anche per te ora, cioè, io ho quello con l'indice stordo. Allora, il tempo lo tiene uguale, per l'amor del cielo. A me non mi piace, ecco, così appunto riesci a vedere un pelino il discorso del quadrante blu-notte. L'indice però è stordo. Procediamo con un Yema, cinque quarzo della mia collezione. Quarzo. L'ho preso perché mi piaceva un attimino il fatto che avesse questa ghiera girevole satinata e non colorata. Eh vabbè. E il quadrante blu, sono un grande stimatore dei quadranti blu. Bravo. Mi piace come colore. Bravo, anche a me piace. È proprio carino, abbastanza economico. Simpatico. Con questo cinturino in pelle marrone. Molto leggero, devo dire. Non lo metto spesso, però secondo me non è male pur essendo un quarzo. Ma certo. Procediamo con l'Onnipresente PRX. Bravo, bellino. Bellino. Volevo un orologio da bracciale integrato, non avevo voglia di spendere molto. Sì. Non è male, dai, è un bel prodotto. No, no, un bel orologio. Molto bene, molto spigoloso. Con il dial. Dial. Perché dial? Un quadrettoni molto interessante come tipologia, movimento, il solito Powermatic 80. Certo. Io non sono uno che ti parlerà, come vedi, di movimento o quant'altro, perché personalmente preferisco parlare un po' più di design e di estetica. Ma sì. In questo momento lo lascio ai puristi e quelli più competenti di me. Bravo. Non riesco a parlare di... Ma guarda che è un po' per tutti così. Cioè, la prima cosa che si guarda in un orologio è l'estetica, il design, l'appeal, quanto bello è. Poi tutta una serie di altre cose come il marchio cos'è, chi mi rappresenta, chi c'è dietro. No. Se la GT Su sai già chi c'è dietro. Se leggo Cimbirimbirimbi, dico fermi, l'orologio mi piace, ma chi è Cimbirimbirimbi, vanno a cercare a studiare chi è Cimbirimbirimbi e se è uno che ha imbrogliato la gente non lo compro più l'orologio, hai capito? Per principio. Poi si va a vedere anche la meccanica e poi dopo tutta una serie di cose che nessuna delle quali è perfetta perché c'è sempre qualcosa che non va bene, eh, se fosse stato, però a un certo punto bisogna anche venire un pochino meno al principio e che deve essere tutto perfetto. Si sceglie un punto di compromesso, vabbè, anche se c'ha la corona a pressione lo compro, ok? Funziona così. Consapevoli, però bisogna farlo consapevoli, non che uno acquista una cosa senza sapere cosa è, cosa c'ha e poi dopo gli dico, ma guarda che quell'orologio lì ha il fondello che non è a vite, è a pressione. Ah, ma io non lo sapevo, adesso non mi piace più. Ecco, questo è sbagliato. Non informarsi prima di acquistare. Una volta che sai tutte le cose che devi sapere, no? Per quello che faccio le recessioni, cerco di mettere sul piatto tutte le cose, 50 metri, il vetro è minerale, la chiusura è un pochino così, il bracciale è sottile, poi non vuol dire che fa schifo. Te sai tutte le cose e decidi se fa per te o se non fa per te. Design e di piacevolezza estetica. Ma sì, bravo, estetica. Procediamo con un orologio a cui dovrò sostituire a brevissimo il bracciale, è un Seiko 5 del 71, se non ricordo male. So che adesso hanno fatto anche un'edizione recente che va a riprendere un po' il canon estetici, tenuto abbastanza bene, comprato e usato dal notissimo sito che vende online, di cui non farò il nome, ma anche tutti conosciamo, secondo me è carino, spero di aver azzeccato il bracciale che andrò a montare a breve, un bracciale in acciaio, spero coevo, vediamo un po' quello che ne verrà fuori. Coevo, era un po' che non lo sentivo, coevo. Zenith, vintage, anche questo qua orologio del 70, non ti so minimamente dire se è originale o no, non lo so, ha un problema di come vedi in alta sinistra di disallineamento del quadrante, secondo me non è stato revisionato comunque, è un meccanismo che si riattiva alla velocità della luce, è impressionante, basta scuoterlo qualche secondo e riprendere ad andare. Orologio molto preciso, piccolino, se non ricordo male, è un 35, un 36, non si so dire se è originale o soppreso una inculata, usiamo questo francesismo, anche se in realtà dovrebbe essere originale, perlomeno la cassa. Non si legge molto bene, ma dietro ci sono dei codici, non lo so, non sono sufficientemente competente per dirti se è originale o meno. Non so cosa dirti. Adesso andiamo agli orologi un po' più, diciamo, di pregio. Vai, spacca tutto. Il mio primo orologio, diciamo, carino, un po' di un marchio blasonato, acquistato nel 2006, secondo me è ancora bellissimo, carriera tachimetro chocolate, a cui ho sostituito il cintorino mettendo questo traforato scamosciato marrone, secondo me è un orologio veramente bello, e, vabbè, è un po' usurato, come puoi vedere, ha l'attorezza di 17 anni. Bello orologio. Ma mi sei molto attuale. È un orologio che all'epoca pagai 1480 euro, ancora la ricevuta, e mi viene da ridere, muovendo l'evoluzione economica dei segnatempo negli ultimi anni, credo che adesso un carriera tachimetro parti dai 4-5 mila euro, se non sbaglio. Non lo so. È un orologio che metto molto volentieri e che mi dà delle belle sensazioni. Sensazioni, meno male. Ci diamo con un acquisto di un mese fa, che tu conosci molto bene. Cos'è, cos'è? Oris 65 Diver, guardante verde, bello, molto bello secondo me. Verdi non li ho visti tantissimo, che di solito si vedono appunto quasi sempre neri, molto vintage, con le lancette color avorio, cremate anche gli indici. Bello, un bell'orologio. Anche questo effetto, diciamo, come definirlo? Simil oro rosa della ghiera zigrinata. Ho messo questo cinturino traforato racing in pelle caramello. Secondo me è un bel orologio. Caramello. A tuo rapporto qualità prezzo. Leggerissimo. Evviva Oris, per l'amor del cielo. Passiamo ad un orologio leggero, un orologio estremamente pesante, ma secondo me è dal fascino notevole. Vai. Deberhard Scafodat 300, un orologio che non si vede molto spesso in giro. Top. Se non ricordo male non ha molti anni, anche in questo caso stile retro vintage. Bello grosso, 43 mm, nonostante abbia uno spessore solo di 12,5-12,8. Veniamo alla valvola dell'elio. Vi ho messo questo cinturino in gomma nero per alleggerlo un po', anche perché col suo bracciaio in acciaio è pesante. Sia a livello di grammi che visivo. Così sul mio polso, che è comunque un posto di 18,5, ci sta bene, devo dire. Bene. Ci piace lo scafografo. Penultimo pezzo della mia collezione, recentissimamente arrivato. Tudor. Black Bay GMT. Tudor. Con bracciali Jubilee. Mi è arrivato già così. Non è un braccialo originale Tudor, è un Faustner. Ah. Però secondo me ci sta bene. Ma sì. Un bel bracciale, di bella qualità, lo impreziosisce ancora di più. L'orologio secondo me ha delle finiture, il prezzo che ha, veramente notevoli. E non penso che sia uno scimmiottare il GMT della Rolex, perché ha delle linee diverse, dal mio punto di vista anche più gradevole. Perché i numeri del GMT della Rolex, secondo me, sono troppo invadenti a livello visivo. Un orologio, per me è bellissimo, per il prezzo che ha. Finiamo la carrellata di orologi con il mio pezzo forte, che è un Rolex Explorer 2. Ottimo, lo spacco. Ultima referenza, la 22. Secondo me è un orologio molto bello, c'è poco da dire. Bello. Ti piace anche a te. Sì. Io non sono un amante dei Submariner, perché quelle ghiere nere e quello stile dell'orologio, secondo me, è stato veramente troppo imitato negli anni. Purtroppo. Comunque dai, un orologio che metto poco, però che mi dà molto soddisfazione. Oh, soddisfazione. Ti ringrazio per l'attenzione, spero che tu possa pubblicare il mio video, e ti mando un saluto. Un salutone. Meno male che alla fine hai detto che lo indossi con soddisfazione, mi mancava questa frase fatta. Mi piace anche a me l'Explorer lì, l'Explorer 2, però quello lì, l'ultima versione qua, è da 42, è fatico. La vedo un pochino troppo, anche con quella freccia lì, grossa, no? Fatico, fatico, fatico. Preferisco quella da 40, la precedente versione. Però anche lì si va un po' indietro con gli anni, quindi, come sapete, io non è che amo spendere tantissimi soldi in orologi vintage o neo-vintage. Poi per il resto, bella collezioncina, bello, mi è piaciuto molto tutto l'ambaradano, mi ricordo più cosa c'era, fammi un po' vedere. Cosa c'avevamo? Eh, sì. Lo zenith, sullo zenith non so cosa dirti, perché non saprei proprio veramente cosa dire. L'Eberhard Scafograf, lì, bellissimo, come il Carrera Cronografo, te dici che costava mille qualcosa, ma sei parlato di 17 anni fa, cioè, è anche anacronistico fare, sarebbe più utile fare un esempio di, oh, tre anni fa costava X e adesso guarda quanto è aumentato. Ecco, in questo range di tempo ha più valore. 16 anni fa costava X e adesso costa Y, no, mi perde il paragone, la metafora perde di sapore, gne gne gne, capito? Quindi non mi è piaciuta. Comunque va bene, gli orologi mi sono piaciuti, l'importante è quello. Complimenti per tutto e buona vita! Ciao Davide, sono Gian Claudio da Napoli, ti faccio i miei complimenti per il tuo format. Grazie. Io mi sono avvicinato al mondo dell'orgeria da praticamente due anni, da quando ti seguo. Bravo. Sono sempre stato appassionato, ma non ho mai preso, diciamo seriamente, questa passione. Eh vabbè. Adesso ti presento la mia collezione, che ho misto tra vintage e orologi un po' più moderni. Va bene. Iniziamo con questo Glycine. Glycine. Combat automatico. 42. Di cui ho cambiato il cinturino in pelle modello Racing, credo che sì. Ci sta bene, ci sta bene. Questa qua è la referenza che è una delle referenze che mi piace di più. C'è nessuno, qualcuno è simile, che si differenziano di qualcosa. Ma questa là, con le sfere a bastone così ben riconoscibili, no? Non le solette Mercedes bianche. E anche il cinturino ci sta bene. Complimenti, ha fatto una bella abbinata. Molto preciso. Preciso? Subacuo, fino a 20 ATM. ATM, banco ma. Mi dà belle soddisfazioni. Belle soddisfazioni. Poi, passiamo a questo Longin, marchio di cui io so che tu sei un grande stimatore, automatico, sempre automatico, ed è una serie speciale. Mai visto. Special Series. Modello aviatore. Tutto originale. Anche il cinturino. Anche il cinturino. Allora. Modello L619. Cosa ne frega. Bello. Beh, molto bello. Un altro mondo proprio, a Longin. Strano, sto. Un rado. Oh, in ceramica. Sempre automatico. In ceramica, bracciale in ceramica. Eh. Classico dress watch. Suomo, classico dress watch. Un orologio elegante. Sottilissimo. Credo che monti anche questo, un calibro ETA. Sì. Non so di che anno è. Un vintage. Un Charles Nicolette. Ha un dial veramente strepitoso, che vira nel verde. Il Tramelan. Tramelan. Molto, molto preciso, a carica manuale. Ma Charles Nicolette Tramelan. Cioè, c'è Armand Nicolette. Tramelan. Non so di che una, un vorrei ma non posso, dell'Armand Nicolette, che poi non è che. Charles, c'è. Ma no, non ho capito. Placcatore. È letto maledetto. È un fondello anche placatore, o con rosissimo. Ha una bella personalità. Charles Nicolette. Mi piace davvero tanto questo. Sarman Nicolette, ma che cosa ne so? Un lanc. Un lanc. Un lanc. 70. Stile anni 70, tipici. Cassa a cuscinetto. Sfere applicate in rilievo. Bravo. Scusa. Sfere. Indici, voglio dire. Va bene. Indici applicate in rilievo. La sfera dei secondi, rossa. Bravo. Anche questo ho cambiato il cinturino in vera pelle. Sempre racing. Credo che ci stia proprio bene. Anche questo ho un'eta come calibro. Si assicuri. Inca block. Automatico. Un Hamilton. Di forma. Automatico. Cioccolatone. Non so come li chiamano questi qua. Tutto originale. Fondello a vista. H3. 0. 4. 1. 5. 0. Ci dice la referenza, grazie. Molto particolare. Richiama un po' sempre... Le eleanze richiamano un po' l'H della Hamilton. Simpatico. Via. Boom. Un laco. Sempre modello aviatore. Questo è particolarissimo. Per la cassa cuscinetto. Come cuscinetto? Queste anze... Casa cuscinetto. Particolari. Il vetro zaffero un po' leggermente bombato. Questa corona liscia. Sarà la lunetta. Ma i termini non li sai. Lucida. Questa anche di notte, le sfere, gli indici si vedono proprio come dei farina abbaglianti. Tutto originale. Bello. Fondello a vista. Dice ATM. ATM. Va bene dai. Bello veramente. Molto bello. Andiamo avanti. Laco Sport. By Laker. Un Omega. Omega Automatic Ginev. Genève. Mi somiglia molto, credo che sia anni 80 più o meno, molto alla Tissou. PRX da Tissou. Infatti credo che sia una collaborazione con la Tissou. Questo tutto originale. Ma come una collaborazione con la Tissou? Cosa c'entra? In quegli anni lì, cioè è già dalla crisi del 29 che Omega e Tissou facevano sinergia. Cioè facevano sinergia nel senso che erano praticamente nel nostro gruppo Omega e Tissou. Dal 29, dagli anni 30 fino all'84 che poi sono entrati nel gruppo SMH bla 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 che poi diventerà nel 98 Swatch Group. Ma non è che questa qua è una collaborazione fatta con Tissou perché assomiglia al PRX. In quegli anni lì tutti i marchi facevano orologi in questo stile col bracciale integrato. E c'era la stessa Zenith, chiunque facevano orologi fatti così. Quindi non è che è una collaborazione perché siccome te conosci il PRX allora il PRX anni sia. E poi voglio dire i termini, no? E ti rispari proprio a caso, rispari. Cioè la cassa cuscino era una cassa normalissima. Poi qua c'è la corona liscia e la lannetta. Cioè, ma anni sia. C'è l'originale. Andai al Verlage. Veramente bello. Perlage. Perlage è un'altra roba perlage. Vetro leggermente bombato. Va bene dai. Vediamo che è. Un'Elvezia. Ah. Elvezia Swiss Star 360. Automatico. Anche questo. Questo credo anche fine anni 70, 80. Ma sì. Un calibro ETA 28,92. Ah, c'è scritto lì eh. Bello. Molto preciso anche questo. Che ho cambiato il cinturino. Bravo. Bravo. Uno Stowa. Stowa. Stowa Parat. Carica manuale. Ha questo dial tutto geometrico. Veramente particolare, bello, mi piace tanto. Anche molto preciso. Bracciale elasticizzato, credo che si lo chiamino Isoflex, una cosa del genere, non ricordo bene. Elastico, non elasticizzato. Questo è un mercatino. Questo mi dà belle soddisfazioni. Belle soddisfazioni. Una bella storia, un marchio tedesco. Stowa. Stowa. Bello, bello. Molto raro, credo. Non so, mai visto. Un girar per regolo automatico, oro 18 carati, alle sfere bluastre, tutto originale, anche il 5.000. Banca popolare di Bergamo, Ganzo, l'ha regalato qualcuno questo. Mettiamo più vicino. Sì, va bene. Ok. Bello, non è. Infine, un Bratling. Bratling, bravo. Bratling colt, credo che sia. Siamo in attimo. Tipico anni 90. Bracciale originale. Messo male, mamma mia. Ma. E questo è tutto. Questa è la mia collezione. Spero che ti sia piaciuto. Certo. Un saluto. Rock and roll. Rock and roll. È una collezione, un insieme di oggetti, di orologi particolari per i quali noi non sappiamo dare una motivazione. Glissin, Longin. Longin lì. Tutti questi orologi che hai fatto vedere hanno sotto questa luce strana, prendono un... Cioè, sono ripresi male. Si vedono i graffi, le ditate, si vede... E... Essendo ripresi male, mi fanno una brutta impressione, capito? Non mi sono avvenuto partire dei top spontanei. Magari sul Girard per Ego poteva partire, anche se è brutto. Cioè, non è che perché c'è scritto il Girard per Ego, è l'orologio più bello del mondo. No. Non l'ho mai visto, non lo conosco. Poi a un certo punto non viene anche il dubbio. No, ma sarà vero? Non sarà vero? Dietro c'è la scritta Banca Popolare, quindi dovrebbe essere un... Un regalo per un dipendente, quindi... Questa è quasi una certificazione che si tratta di un orologio genuino, no? Spero, credo. Beh, per il resto, due orologi simpatici. Simpatici. Non ti rimando a settembre, ma ti dico che c'hai tutti i orologi simpatici. Prossimo video. Ciao Davide, ciao a tutti gli iscritti. Ciao. Iniziamo con questo video, questo sarà già il terzo. E intanto anche qui c'è un bel tavolo con tutta la rubina, le zeppel in deep purple, un bel Seiko tartellone. E poi c'è Martin Sheen lì, cosa fa lì? Apocalypse Now. Bello, bello, bello. Bellissimo, bello, bel purpuri. Iniziamo con una serie di Seiko. Vai. Iniziamo col primo, questo Presage. Simpatico. Con la lunetta verde scuro. Seguiamo con la riedizione del 62 Mars. Bello questo, mi piace. Save the Ocean. Ocean. Questo bellissimo Astrolabe con il movimento 8L35. Cassa da 42. Questo costicchia, eh? Top. Bellissimo il quadrante con tutti i segni circolari di questo strumento antico che era l'Astrolabio. Mamma mia, bello orologio questo. Poi ti faccio vedere questo Seiko Capitan Willard che aveva nel film, non questo, ma l'originale, aveva nel film Apocalypse Now l'attore Marty Sheen. Dimenticavo, un caro saluto anche da parte di Billy Billy. Ciao Billy. Adesso gli diamo una trocchettina. Ancora una. Sembra un'iguana. Wow. E proseguiamo. Flam. Flam. E scivola un po'. Vabbè. Grande Billy. Proseguiamo con una serie di Oris. Vai. Questo bellissimo. Bello. Oris. Guarda che qui è un po' sporco. Ma è verde come quello di prima, no? Un quadrante verde scuro. Non so se si vede. Come quello dell'amico di prima, dai. Siete già in due. Bravi. Ecco qua. Bello orologino. Questo bel Big Crown. Bello. Con la cassa in ottone, quadrante verde. Ottone è un par di palle. Bronzo. Vabbè, ottone. Vabbè, bello. Big Crown. Io ce l'ho bronzo così, con il quadrante azzurro, quello no, Mare Nostrum. E ti hai scelto questo colore qua, che è bello ugualmente. Anzi, è meno accecante, no? Da meno nell'occhio e si amalgama meglio con il colore bronzo. Colore bronzo, non colore ottone. Questo spettacolare Oris Aquis calibro 400. Bravo. Guardate che quadrante. Bel botto. Spettacolo. Adesso vi presento questo bellissimo Zodiac cronometro. 30 atmosfere. Quadrante nero sfondo. Sfumato bellissimo. Bella sai. Guarda che bella ghiera. Seguiamo con due cronografi. Proseguiamo con questo Nivada Grench. che praticamente la Nivada l'ha rifatto tale quale al modello vintage degli anni 60. È la ridizione di un modello degli anni 60. Di questo volevo chiederti se prima o poi riuscirai o farai una recensione di questo modello. Eh eh. Un carica manuale. A me piace molto. Mi segno la richiesta. Un ultimo questo cronografo Hamilton. fine anni 90. C'è pulsante a vite. Movimento Valjoux 7750. Ma che bellino questo. Bravo. Spero di essere stato veloce e conciso. la rovescia. Tieni Billy. Vai Billy. Al contrario. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Billy. Che bello occhioni che c'ha Billy. Ah. Mitico. Va bene. Un caro saluto. C'è un sacco di belli orologici. Poi va. Batti anche no. Per esempio io cerco a volte di andare a parte Omega. Però cerco anche un po' di cambiare marchio. Di averne uno di ogni marchio. Mettiamola così. Che è possibile no. Ti invece proprio pisti 4-5-6 con 4-5 Oris. Fa anche piacere. Vuol dire che ci sono più orologi di una stessa marca che ti interessano. Se il discorso è di invadali speriamo. Prima o poi me lo segno. Quando mi capita l'occasione farò una recensione. Ma poi se l'hai già comprato. Se è già tuo. Vuol dire che ti è piaciuto. Vuol dire che lo saprai meglio di me. Quali sono i punti deboli. I punti forti di un orologio. Quindi che bisogno c'è. Sì. Magari per vedere quelle belle macro immagini. Che magari. Non tutti stiamo lì ogni volta che si prende un orologio a guardarlo col lentino. E quando uno fa una recensione magari si scoprono dei dettagli che. Utilizzarlo giornalmente. Normalmente non si scoprono. Ecco. Questo magari lo posso. Lo posso ammettere. Che nella video recensione le immagini ti fanno scoprire qualcosa di nuovo. Per il resto. Grazie mille. Io e questo ragazzo qua ci conosciamo. È venuto in vacanza qua in zona la scorsa estate. Siamo stati anche a pranzo insieme. Ho conosciuto Billy. Lì l'amico Billy. Molto molto bene. Niente. Mi sembra di aver detto tutto. Insomma vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi. Che come sempre sono. Quando voglio io il più spesso possibile. Qui su YouTube. Love. Ciao. 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 Ciao.